Allora ragazzi, dopo aver fatto una decina di bagni e aver pranzato, si sta veramente bene, guardate che spettacolo, guardate lì dietro c'è una pineta, veramente bello qua, vi voglio parlare di una persona che ha deciso di cambiare la sua vita e lo sta facendo con delle decisioni concrete, azioni concrete, ve lo taggo qua, Nicola, che ho conosciuto, cioè lui mi seguiva su YouTube per il discorso degli olivi e un giorno ha visto che cercavo collaboratori per il business eccetera, quindi mi ha contattato, è venuto a parlare con me in ufficio, è deciso di cambiare la sua vita e praticamente lui lavorava al porto e non era contento perché non è un ambiente particolarmente positivo e il fatto che non potesse programmare la sua vita perché era comunque soggetto a dei turni che peraltro spesso e volentieri vengono decisi all'ultimo momento, quindi una vita lontana dall'essere libero e ha deciso di finirla e quindi si è fidato di me e ha deciso di intraprendere questo business con il network marketing che ha cambiato milioni di vite in tutto il mondo e si è licenziato, quindi il fatto che ora lui possa avere molto più tempo per la sua famiglia e possa stravolgere la sua vita mi dà veramente un'emozione incredibile, con questo video non voglio cercare di convincere qualcuno di voi anche perché quando a me è stato proposto questo business non c'è stato bisogno di convincermi, ho avuto l'intelligenza di capire che era la cosa giusta quella che cercavo da una vita, però mi interessa che chi ha un sogno possa trovare in questo l'opportunità che cercava da sempre. Chi è scettico, chi non vuole nemmeno capire di più, chi sta bene già così com'è, non mi interessa, non lo dico per voi, lo dico solo per chi ha un sogno nel cassetto, per chi ha un lavoro che non gli piace e farebbe di tutto per cambiarlo, per chi ha un perché forte e che sia disposto a cambiare la propria vita, quindi se qualcuno di voi vuole capirci qualcosa di più me lo scrivete, me lo dite qua sotto.